Chi è? Buongiorno Fronaias! Vorrei un biscotto di quelli dondi della scuola. Ce li ha? No! Ma per fortuna Chiara aveva anche lei la battita magica. Ci serve un'idea per riuscire a mettere questo bottiglio così grosso a farlo disegnare di un foglio così piccolo. Vieni qua! Poi c'è, ci sono le cose lì. Ohkele, sono呢? Ha-ha-ha Ha! Ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha! Facciamo così, voi me lo disegnate, così la prossima volta so come fare, ok? Ora fa un po' lei va a finare, vedremo una tomatetta come se fosse stata fotografata, qua, qua e qua. Se noi uniamo tutte le cose, quelle che abbiamo visto noi e quelle che vedono gli altri, riusciamo a vedere di più, una mela cucata, tanti puntini, qui sembra una gialla, si vede il morso? E poi è tagliato! Ho colorato un pochino qua dentro per fare piccolo, piccolo, puntino, puntino, piccolo, 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 ha puntitino, piccino, 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 vedi, ecco il puntino nero, vedi? Fa vedere? Alla fine del conno, vedi? E questo che cos'è questa linea qua? no... no.. questo è la attrata che porta... che porta il puntino! quello è un tesoro dobbiamo farILLe riguette! guarda questo guarda il da brumbo sta mangiando la foglia perchè hai visto che l'ha mangiata pure qui guarda si riesci a disegnarla con il buchino? che cos'è? e ce n'è più di una e invece questa foglia che cosa c'ha? che gli è successo? quelli sono tutti morti è fatto? questa è la prima e questo è il buco che vedi? è vero? c'è un buco questo è il mio è partito Elena? si si sta registrando? si è vero? è vero? è vero? è vero? è vero? Wow! 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 Oh wow! Had a long day! Bye! Abuse me! Bye! 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 Bye!